oh mio dio che bello ci sono tre vabbè Bob Ross che afro è fantastico Silvanus afro apprezzo allora io sto usando sti cazzo di starter ma secondo me sono un pessimo pick perchè apprendi starter? non lo so ho l'impressione che non facciano quanto dovrebbero magari servono in contest io stavo andando a piacere reward dietro mamma mia troppe assalte ahahahahah nella mia mente stavo andando dietro dove prende la vita in assalte a piacere reward per qualche attimo il tempo è stato tipo 250 minuti una roba del genere 240 è tuo l'affare luigi oh opsii thanks oh partino che cazzo di pad che fai? eh sì eh ti non dico che è rotta mince senti fai buff al livello 1 curatevi amici miei eh è bella perchè fa un sacco di danno però devi preparare diciamo non è che lo può fare dal nulla ma fai con le piantine sono buccati toh becca te sto danno a gratis tiè non pushano così bene loro mmm però fanno male mi cura mi cura bitch tanto premio bitch no 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 i miei ho lasciato stare ahhh una linea proprio avevo i cuori ma ehm ehm dancia dancia mancia si bitch get up wait c'è il power non facciamo troppo gli aggressivi no siamo bene bravo ce la facciamo ce la facciamo vienisse 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 ultimate is down allora via arrivo ci sto ahhh ahhh grazie ignorantissimo curati un po' inculati inculati vabbè ok 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 bello ok 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 anche i muri bellini guarda tutti si fucciosi vieni Persephone fatti fatti il mana con me arrivo arrivo da un po' di plantine tutto tuo tutto tuo ci sto io in lane quando torna ultimi disready tra l'altro sono meglio sono tutti full vai quando vuoi sono anche belli aggruppati scappano fermi eh lui no non è purification si tranne cernumus che dovrebbe essere il primo a prenderlo esatto beccate questo ti ha pigliate tu schiaffi bravo che sei vieni adesso ho i cuori tutti per te c'è uno l'ho visto convinto c'è uno l'ho visto convinto c'è uno che sei ma che dico uh 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 curati beh vai a cacare vai curiamoci bravo tatticissimo quel muro Ymir l'ha imparata dai militari questa strategia ulti tra 3 2 1 eh io non ce l'ho tra 45 secondi figa vado in base vai mi prendo le stack vieni 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 facciamoci un po' di di exp top via via lascelo stare non lo scesiamo il mana il mana qualcuno ci pensa mid? si ma io thanks non ci avevo pensato che potevi non andarci ok il mana è qui jumpy quando vuoi jumpy jumpy oh maia ok punto ho un cazzo di vita vado in base e anche un cazzo di mana eh sebastiano no sei da solo mai ah giusto il mana nice job guys non so se prendere quelli dell'attack speed attack speed si poi faccio il resto power ah si blood fortune ok vado a farm il power sto va a te getter di ooo t s ooo 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 Attento, attento, arrivano, arrivano Beh vai che care Bella Mi viene anche preso Non mi piace questo Ymir Ha una skin molto figa ma Ho visto I Ymir migliori Ultimate is ready Lasta, lasciami stare Lasciami stare The fuck La seba Ho essere ripiazzati male Oggettivamente ho preso L'attiva sbagliata Fuori Andate andate Ci sto io qua Sì, sì Faccio una quadra Classico Faccio un po' Ci provare almeno Bravo Che bravo che sei Arrivo, thanks Ultimate is ready Ragazzi Arpie Arpie portami via Un'attiva 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 Un'attività Occhio jumpy Un'attività Quando vuoi Wow top e che faccio anche questa dai lascialo stare no che vita no mamma mia faccio il giro no facciamoci la torre che cazzo ce ne frega di lui, vai, ora se ne sta andando in base opsiii opsiii vai, sfoliamoci la giungla vai, tu vai back e io jumpy ci facciamo la giungla ok, ora sono qui dietro via si, si, si intanto c'ho l'escape, dovrei potermi salvare mamma mia 32 anni c'è un power qui lo prendo io non ci provare nemmeno ulti tra 8 16 4 3 2 ce l'ho guarda ti hanno visto ultimità 0 nice job ok perchè il mir non la usa prima la ulti davvero chi si vuole curare ci sono questi suoliamoci questa e poi dire bull demon perchè possiamo pericoloso attenzione la bull demon king veloci lasciamo stare venite, 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 venite poi arrivano arrivano lascia stare lascia stare se arrivano qui lascia stare eccoli, guarda, girati, girati, c'è c'è il nunno no, che ca... vado mi seguo il mir ok ok no ma dai che culo Ares dove vai? Ares oh vai la prova li stiamo arando faccio un bello speed minchia frate mi faccio di speed non fa più ridere questa battuta ma mi piace sempre di più poi mi vado anche a buildare jumpy hai bisogno? sì perché stai per andare back sto io in lane no tanto come che sta vicino mi ragione anche te però perché c'è 4500 goldi non va 5500 goldi rubis rubis come? rubis rubis yes fatti power 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 Tutto tuo Non ho ancora completato Figa Relica Prendo la purification Ah no sono qua E no non ci sono Aspettami Ho la ulti pronta ma non ci sono Ci sono Quando vuoi Sono fermi Eh vabbè dai Andiamo andiamo attacchiamo Sì Mir vieni Prendi tutto il mio danno Vieni Mir Vieni Mir Ah no non ha la felice Lestia Ah facciamo la felice Vieni bella felice Vieni Ok E niente si sono rifullati Occhio Infatti io tornerei indietro Ok Peggio per voi Vieni Persephone Ci sono dei cuori qua dietro Ok Ok attento Ok attento Aia Nice Ti stai Vieni 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 Comunque loro sono all'11 12 e 13 Noi siamo tutti C'è un livello In più a testa Ci abbiamo Guardate chi c'è Nice job F**k that Mastardo 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 Andiamo andiamo abbiamo vinto Abbiamo vinto Via E fine Parati Sì è finita E ora ci sono Dai che facciamo un altro kill Nice Pulito 3-3-8 Good 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 Grazie